va ora in onda dentro la notizia a cura di manuela gaio primo appuntamento per questo 2023 con dentro la notizia volevo rinnovarvi gli auguri di un buon anno con la speranza che vi porti tante cose belle salute speriamo la pace in tutti quei luoghi martoriati dalle guerre ma torniamo a noi auguriamo un buon anno al nostro ospite di oggi vasili giammaria mangerasse spero di averlo detto giusto l'hai detto giustissimo allora tu ci porti un sacco di novità per conto del tib e non esagero perché sono veramente tante da che cosa iniziamo allora io inizierei dal dall'inizio nel senso che quest'anno sono tib compie 30 anni la stagione comincia dai tre quella per le famiglie compie 30 anni 30 anni di attività a belluno e quindi per il trentennale sono nate tantissime nuove insomma attività quindi oltre alla stagione delle famiglie teatro della domenica le 5 insomma dove ormai da 30 anni ci conoscete sono nati dei progetti nuovi dei progetti nuovi come quello che è stato fatto al parco fluviale di lambioi è stato fatto il primo teatro di verzura all'italiana in stile dei teatri barocchi del settecento che ha ospitato uno spettacolo che si chiama totò degli alberi con una struttura autoportante era uno spettacolo dove veniva appunto costruito questo teatrino all'italiana per 50 spettatori quindi abbiamo ospitato le scuole primarie di tutta la provincia di belluno e una volta finito lo spettacolo insieme ai bambini delle scuole della provincia sono stati piantumati degli alberi degli alberi che una volta tolta la struttura appunto sono diventati un teatro vegetale all'italiana quindi con edere e alberi quindi uno spazio che è ritornato alla nostra comunità quindi ci tengo a ringraziare anche l'amministrazione comunale la fondazione teatri delle doluminiti che ha sostenuto questo progetto e adesso se andate al parco fluviale insomma dopo vaia è rinato qualcosa volevo dirlo no dopo vaia c'è stato veramente un disastro e voi ci avete messo una bella pezza voglio dire abbiamo provato a metterci del nostro quindi un teatro di di verzura si dice verzura l'ho imparato recentemente un teatro fatto di alberi ma voi siete giovani quindi avete anche tante iniziative questo bisogna dirlo no tra l'altro abbiamo avuto anche dei nuovi innesti di ragazzi molto giovani un 92 97 gian maria e andrea che si sono formati a milano e sono tornati a belluna adesso lavorano in cooperativa con con il teatro e niente questo è un momento di passaggio c'è un ricambio generazionale e non crediamo nei giovani come qualcosa che serve per rottamare per distruggere ma un'energia nuova che può dare uno spunto per nuove iniziative ma sicuramente l'esperienza di daniela di labros nianicosia labros mangeras insomma è fondamentale all'interno di quello che ancora la struttura di teatro ci sono stati i nuovi innesti che ci hanno permesso appunto di rivitalizzarci in qualche modo sono perfettamente d'accordo ma ci vuoi parlare un po di te così poi raccontaci qualche cosina allora io sono principalmente un attore ho studiato teatro a milano in un'accademia che si chiama quelli di groc e successivamente mi sono spostato a roma dove ho studiato in una delle migliori scuole di cinema tra l'altro adesso è tra le prime dieci in europa la scuola d'arte cinematografica giammaria volontè ho avuto la fortuna di superare una selezione di entrare e mi sono diplomato appunto alla volontè in recitazione cinematografica da là poi insomma sono stato sfortunato perché mi sono diplomato nel momento in cui è scoppiato il covid quindi c'è stato subito il lockdown però pian pianino ho iniziato poi a fare a fare altre cose a lavorare una curiosità come nasce la passione per il teatro per il cinema cioè ce l'avevi già nel dna da bambino allora diciamo così da bambino ci sono cresciuto nel senso che qua belluno c'era il filo d'arianna festival organizzato da tibeteatro che per me quella è sempre stata un'occasione di incontro con questi artisti queste queste personaggi strani che arrivavano a belluno riempivano la piazza e ci si ritrova a seguire degli spettacoli di danza di musica di teatro negli spazi urbani e durante quei giorni del filo d'arianna festival c'era anche l'occasione di fare dei laboratori teatrali con dei formatori di livello nazionale e io mi divertivo a fare questi laboratori insomma estivi però si concludevano nell'arco di una una due settimane al massimo e niente quindi la mi mettevo in gioco mi piaceva si creava anche il gruppo era una bella parentesi che purtroppo non c'è più ma speriamo di ritornare anche con questo festival a belluno e in quell'occasione mi si è mosso qualcosa dentro successivamente non ho più con la fine del filo d'arianna ho continuato ad andare a teatro al cinema mi piaceva molto fruirne del di tutto quello che era appunto artistico quindi anche mostre concerti e dopo il primo anno di università fatto scienze della comunicazione a Ferrara mi sono accorto che insomma non era non era il mio un approccio scolastico universitario e c'ho questa fiammella che dentro di me mi bruciava e ho deciso di provare a investire il mio il mio tempo il mio percorso in quello che adesso ha il mio mestiere ecco mi piace sai e sapere queste cose perché perché scatta qualcosa no a un certo punto e dice ma questa non è più la mia vita devo cercare di fare ma ci vuole anche tanto coraggio perché non è semplice non è una professione così facile anzi credo sia molto molto difficoltoso no poi tu hai studiato da volum da mi sembra in scuole abbastanza quotate alte questo ti ha aiutato tanto nella tua carriera sicuramente sei giovanissimo hai ancora tanta strada ma hai ancora tanto tempo sì direi di sì poi chiaramente il tempo sfugge dalle mani quindi non mi voglio non mi voglio sedere diciamo ho avuto l'opportunità nell'ultimo anno di lavorare adesso abbiamo finito di girare quest'estate il nuovo film di stefano mordini dal titolo to win sul rally che è una produzione rai cinema lebonski che è la casa di produzione di riccardo scamarcio e che andrà a canna non in concorso a maggio quindi aspettiamo di vedere questo film l'ho interpretato un pilota tra l'altro di di conegliano ad artico v da fieri dell'ottantatré è bello perché è un mestiere che ti fa fare dei viaggi nella storia ti interessi di cose tipo il rally che era una cosa che insomma non avevo mai affrontato e poi ho lavorato in teatro con Eugiani Allegri dove ho fatto il teatro comico di di Carlo Goldoni che è stata la sua ultima produzione perché purtroppo è scomparso l'anno scorso e che ci ha permesso di girare tutta Italia e recentemente sono stato preso da da Paolo Rossi per una nuova produzione top secret con lui ovviamente in scena che partirà a ottobre del 23 che poi dicono che è molto difficile fare l'attore comico no è difficile è difficile far ridere non è facile sì non è non è facile perché se tu ti impegni a fare ridere secondo me crei l'effetto opposto io penso che la comicità sia un po' dentro noi stessi in ognuno di noi e quindi tutto ciò che è inconsapevole a me fa ridere no le gaffe che si fanno in maniera inconsapevole sono quelle più divertenti e quindi non bisogna prendersi sul serio bisogna lasciarsi andare fidarsi e affidarsi di un maestro come Paolo Rossi che chiaramente riesce a tirare fuori da te anche delle cose inaspettate io non pensavo che sarei potuto essere un attore comico invece mi sono sorpreso io ti auguro tante cose belle per questo 2023 davvero e anche per i prossimi anni magari ti vedrò al cinema e dirò beh io l'ho conosciuto che è già una bella cosa ascolta ritorniamo invece ho visto che avete in calendario tu hai parlato prima del filo d'Arianna che organizzava degli spettacoli si conoscevano anche questi personaggi però voi vi siete dati da fare e state organizzando dei corsi teatrali anche per ragazzi bambini e adulti esatto ed è questo di cui volevo particolarmente parlare è un'idea che è nata da altri giovani di Belluno che come me sono degli attori e che come me si sono formati fuori da Belluno anche loro è nato il germe in quelle occasioni che dicevo prima io e si tratta di me grazie a Capraro Alberto Fornasati e Giorgia Polloni sono siamo quattro ragazzi tutti direi relativamente giovani e abbiamo deciso di costruire qualcosa grazie a tib che ci ha dato la possibilità di crederci e di utilizzare i suoi spazi del della casa delle arti che sono in via tiziano vecelli 82 f l'ex casarme piave tib teatro ha preso un uno spazio l'ha riqualificato e partiranno da febbraio dei corsi cioè ci sarà la prima e vera scuola di teatro a Belluno e siamo molto contenti di questo sono corsi per tutte le età quindi dai bambini agli adulti i bambini li abbiamo divisi nella fascia diciamo quella delle elementari 6-10 anni e successivamente i ragazzi diciamo la fascia quella delle medie che è quella un po più difficile da intercettare gli 11-13 poi c'è il corso per le superiori i ragazzi delle superiori quindi dai 14 ai 17 e poi c'è il corso adulti quindi per tutti voi che ci state ascoltando e non solo dai 18 all'infinito all'infinito beh certo ascolta perché consiglieresti un corso teatrale a un bambino è interessante questa domanda allora sempre grazie a tib teatro noi abbiamo fatto dei laboratori all'interno delle scuole di tutta la provincia in questi anni e io in primis ti posso parlare della mia esperienza quindi io mi sono accorto che attraverso il linguaggio teatrale che non è per forza appunto per un bambino qualcosa di tecnico di difficile ma è più che altro una conquista di libertà all'interno di uno spazio dove gli altri bambini ti vedono ti ascoltano hai il tuo tempo hai il qualcosa ecco è qualcosa che va in qualche maniera a costruire non solo l'autostima di una persona perché i bambini sono per me sono degli esseri umani piccoli ma non per questo sono meno importanti di noi adulti ma anche diciamo i ragazzini indicati dalle stesse insegnanti come ragazzini magari problematici adesso si cerca sempre di purtroppo di etichettare con delle definizioni precise quindi magari è successo in delle scuole che arrivava l'insegnante mi diceva a questo bambino a questo quest'altro a questo il primo giorno con ancora io non ci avevo ancora lavorato invece in quei proprio nei bambini quelli ritenuti difficili mi sono accorto che il linguaggio teatrale il gioco teatrale le regole teatrali funzionano funzionano e gli permettono di trovare altri canali comunicativi che chiaramente durante l'ora di scuola ma non per fare un processo alle insegnanti ma perché giustamente devono portare avanti un programma hanno 20 25 bambini in classe e tutto non hanno tempo di poter dedicare a questa sfera emotiva diciamo il corso di teatro ha proprio permesso a tanti bambini di potersi aprire di mettersi in gioco e di ha migliorato anche le relazioni all'interno della classe uno dei lavori che ho fatto all'interno della classe è stato proprio quello di costruire nuovi linguaggi proprio relazionali interno al gruppo classe fare gruppo ma farlo davvero e quindi non solo con gli amici poi da piccoli c'è una divisione fra maschi e femmine quindi io li mettevo sempre in realtà li mescolavo le rimescolavo abbiamo creato delle cose belle ecco anche in tempi di covid addirittura siamo riusciti a fare dei laboratori online con la con la didattica a distanza quindi dalle loro casine con mamma e papà che li mettevano davanti al computer abbiamo giocato insieme venga in questo caso la tecnologia no ci ha aiutato a superare anche quei anche perché per voi è stato un periodo veramente duro nel senso non si poteva gli artisti sono stati veramente penalizzati si sono inventati un sacco di cose quindi veramente un plauso poi io credo comunque ritornando ai bambini che si giochi tanto anche sulle emozioni no si gioca molto sulle emozioni ma anche sul saperle riconoscere nel senso che mi rendo conto che i bambini di oggi rispetto anche semplicemente al bambino che ero io sono notevolmente cambiati un po è stata la pandemia ma un po è stata anche la digitalizzazione e il fatto che si ritrovano a utilizzare il touch degli schermi stanno davanti ai cellulari anche la modalità di gioco è cambiata non è più un gioco condiviso ma è un gioco solipsista cioè giocano da soli si hanno proprio difficoltà a relazionarsi e quindi l'aspetto emotivo chiaramente genera una grandissima timidezza anche nei confronti del gioco che dovrebbe essere un aspetto naturale abbiamo lavorato proprio sulla sulla costruzione di la distruzione di determinate barriere emotive che purtroppo c'erano ed erano anche abbastanza evidenti certo ascolta c'è un numero di telefono a cui possono rivolgersi le persone sono interessate anche quelle di 90 anni come abbiamo detto tutti tutti allora la scuola si chiama atto zero partirà dal primo febbraio per la durata di cinque mesi fino al al 15 giugno potete scrivere un email a info chiocciola tib teatro punto it o telefonare allo 0437 95 0555 o andare anche sul sito di tib teatro sotto la voce atto zero trovate tutte le informazioni che vi servono atto zero mi ricorda qualcosa c'è già qualche scuola in italia allora ho un ricordo però può darsi che mi sbagli abbiamo abbiamo giocato col nome atto zero in realtà un po perché c'era la trasmissione anno zero e quindi era un qualcosa che insomma già ci suonava nella nostra testa ma poi abbiamo scelto questo nome perché è qualcosa che arriva prima dell'atto dell'atto teatrale della recitazione e se prendete un testo teatrale anche potete far caso che è diviso molte volte in atti primo atto secondo atto terzo atto questo vuole essere l'atto zero cioè qualcosa che arriva prima 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 dell'andare in scena prima del del testo prima della messa in scena c'è la formazione e quindi atto zero anche se alla chiusura di ogni laboratorio teatrale ci sarà una restituzione scenica sempre presso i nostri spazi alla casa delle arti quindi gli ultimi due mesi si lavorerà proprio alla costruzione di uno spettacolo vero e proprio è meraviglioso questo certo ma poi i bambini i ragazzi gli adulti vengono mescolati in un unico spettacolo o ognuno farà uno spettacolo per conto proprio sarebbe stato bello mescolarli in un unico spettacolo ma diventa complicato molto molto complesso conta che saranno delle classe dai 12 ai 18 al massimo componenti per classe e quindi mettere insieme quattro diventerebbe uno spettacolo corale enorme e quindi ogni classe avrà il suo spettacolo dedicato con il suo insegnante dedicato che lavorerà a questo lavoro qua esatto bello parliamo di comincio dai tre sì assolutamente sì così andiamo avanti e parliamo anche di questa cosa ci tenevo a parlare di atto zero perché secondo me è fondamentale no sì è la novità di questi mesi le iscrizioni sono aperte lo ricordiamo ancora allora comincio dai tre come ogni anno comincio dai tre si divide appunto fra gli spettacoli quelle per le scuole poi noi diciamo comincio dai tre anni ma finisco alle superiori in realtà in un solo e gli spettacoli quelli per le famiglie dalla domenica pomeriggio allora per quanto riguarda adesso la stagione in corso e sta andando molto bene però ci terrei a promuovere degli appuntamenti allora uno su tutti è la bianca la blu e la rossa sul tema proprio della diversità questo spettacolo andrà in scena domenica 22 alle ore 17 ed è per le famiglie e anche qua potete prenotarvi mandando le mail a info chiocciolatipiteatro.it o telefonando al numero che ho detto prima è uno spettacolo molto interessante perché proprio tratta il tema della diversità di questa clownessa in questo mondo di clown e di persone tutti blu a un certo punto compare questa clownessa rossa e chiaramente è un colore diverso è qualcosa che non si ha mai visto in città e questa clownessa rossa andrà a sconvolgere la vita della clownessa blu che si conoscerà che è successo qualcosa e inoltre c'è questo clownessa sempre interpretato dalla bravissima lice bossi bianca che andrà appunto a risolvere il conflitto e a spiegarci come la diversità ai piccoli principalmente è un valore aggiunto a qualcosa di importante di bello dal quale noi tutti possiamo crescere imparare qualcosa quindi ci tenevo a questo spettacolo qua particolarmente non solo perché il prossimo ma un'altra novità oltre a sempre dentro il trentanale di comincio dei tre è questo giovedì giovani h 21 questo giovedì giovani h 21 è stato un rischio di impresa nel momento in cui l'abbiamo lanciato perché questo giovedì giovani si riferiva a un target poco coinvolto poco raccontato cioè i giovani adulti mi viene da dire ma i giovani dall'età dei 14 fino ai 30 35 che quando finisce l'adolescenza non lo so anche mai al momento o meno ancora non è finita però volevamo intercettare il giovedì sera con degli spettacoli semplici però dedicati a quella fascia d'età quindi non di teatro ragazzi per un pubblico appunto adulto ma con dei temi precisi per loro il giovedì sera le 21 uno ogni giovedì del mese e devo dire che c'è stato un grandissimo riscontro di pubblico soprattutto delle scuole superiori di belluno e sono molto contento di questo perché abbiamo intercettato questo questi ragazzi che non conoscevano non praticavano il teatro invece adesso anche grazie alla caveia la piadineria di belluno col quale abbiamo fatto un accordo possono fare questa sorta di format piadina più teatro giovedì sera ritrovarsi vedere uno spettacolo su un tema tipo il prossimo dai fratelli dalla via sboom yes we cake sul tema della sostenibilità possono mangiarsi una piadina andare a teatro hanno lo sconto sulla piadina hanno lo sconto sul teatro perché i prezzi sono accessibili a tutti e possono fare una serata diversa giovedì sera sono molto contento che ci sia stato un riscontro beh certo è una cosa molto sana tra l'altro anche perché si possono trovare possono avere un qualcosa di diverso da fare voi date un'alternativa alla solita serata monotona che potrebbe essere che diciamo sempre i giovani non sanno cosa fare no ci sono le cose però tante volte non lo sanno quindi voi siete andati vi siete fatti questi accordi con la piadineria mi sembra una buona idea se questi sono poi risultati ci sono stati degli ottimi risultati adesso aspettiamo il 26 e scopriamo il 26 per i fratelli della via sboom yes we cake chi ci sarà e niente siamo molto contenti però del riscontro di questa stagione e dicevo rischio di impresa all'inizio perché poteva essere una stagione sai i giovani il giovedì sera alle 21 poteva essere effettivamente un flop invece ci abbiamo creduto ci abbiamo provato ci abbiamo lavorato e i ragazzi sono sono arrivati ma io credo che anche i genitori siano d'accordo quando sanno che i ragazzi anche sono attratti dalla dal teatro perché mi ricordo diceva per paolo pasolini che il teatro è stato sul classato diciamo questo termine dalle partite di calcio dal calcio lo diceva pierpaolo pasolini questo e quindi io dico ben venga che ci siano anche queste cose perché purtroppo non esiste soltanto no per fortuna non esiste soltanto il calcio ci sono anche altre attività che possono portarti e tu lo hai detto anche prima a delle cose grandi no a tirar fuori le nostre emozioni a imparare anche a relazionarci l'uno con l'altro che è la cosa che manca non soltanto ai bambini ma anche ai ragazzi ai giovani e forse anche agli adulti perché abbiamo perso l'abitudine di parlare di interagire insieme di metterci in discussione e invece il teatro ti aiuta proprio a tirar fuori tutto questo si ragionare su qualcosa indipendentemente dal fatto se ti piace non ti piace anche il fatto che magari uno spettacolo non ti piace è già un'emozione ti ha già suscitato un qualcosa hai voglia di discuterne di capire il perché non ti piace qualcosa tra l'altro sappiamo il fascino del calcio è inequiparabile però non è detto che una cosa escluda l'altra io sono un grandissimo tifoso della juve però vado a teatro e vado al cinema insomma si può fare ma certamente no e io dicevo che mi sembra sano comunque avere delle valide alternative quello sicuramente per forza anzi è giusto che ci siano è giusto che ci siano come ci sarà la scuola di teatro al posto del magari la scuola calcio senza nulla togliere la scuola calcio ma perché poi l'ho fatto il giovedì sera alle 21 non credo ci siano degli allenamenti di calcio no alle 21 di sera con i giovedì giovani non dovrebbero esserci né partite né allenamenti sì perché è il mercoledì di solito la Champions esatto e l'allenamento sì è vero è vero non avevamo pensato però no effettivamente vedi anvedi ascolta avete altre novità perché per il momento mi hai regalato veramente tante cose un'ultima dai un'altra novità abbiamo deciso sempre per il trentennale di non escludere nessuno quindi i ragazzi delle superiori il giovedì e gli adulti il giovedì sera le famiglie per le domeniche con comincio dei tre le scuole di tutte le scuole dell'infanzia scuola primaria di primo grado secondaria tutte per le scuole a teatro insomma con degli spettacoli dedicati ad ogni fascia d'età che si possono prenotare direttamente alle scuole abbiamo pensato anche al nido quindi abbiamo deciso di proporre questo spettacolo che è uno spettacolo dedicato proprio ai piccolissimi è difficile con i bimbi da 0 a 5 anni vuoi a 0 a 3 nido si parla 0 a 3 perché poi siamo già alla scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 quindi esatto aiuto è uno spettacolo proprio dedicato a loro senza parole ovviamente però con una serie di giochi e di effetti si chiama naturalis sugli elementi quindi il fuoco la terra l'aria l'acqua ed è uno spettacolo per cui i bambini del nido non si devono spostare e andare a teatro ma è uno spettacolo fatto apposta per andare lui dentro il nido e quindi coinvolgere i bambini quindi che poi credono adesso una curiosità che si impari molto dai bambini dagli atteggiamenti anche perché i bambini sono spontanei cioè non hanno filtri loro quello che se devono dirti guarda questa cosa mi fa veramente non mi piace non la faccio sono sinceri un adulto ci pensa i bambini sono molto sinceri e io in primi sono imparato moltissimo facendo i laboratori nelle scuole tra l'altro non mi sono mai posto come un insegnante che arrivava lì da fuori e allora loro mi dovevano rispetto a priori ho sempre cercato di pormi alla pari nel senso siamo qui a fare questa cosa siamo qui a divertirci insieme se vi va di giocare di costruire qualcosa insieme lo facciamo se non vi va non c'è nessun problema basta che non disturbate gli altri a chi va a chi non va può stare tranquillamente fuori non ho mai obbligato nessuno a coinvolgere i laboratori perché credo proprio che ci sia non deve essere una cosa che cade dall'alto in posta deve essere qualcosa per cui loro devono essere appunto accompagnati e deve essere una scelta volontaria anche per i più piccoli e mai un'imposizione sono d'accordo sono d'accordo anche perché lo dicevi tu sono delle teste pensanti assolutamente sì e credo siano anche i più grandi critici poi alla fine super critici va bene allora Vassili Gianmaria devo leggere il tuo nome perché altrimenti le dobbiamo leggere tutte e due no ascolta una cosa il tuo nome da mi dicevi prima è greco italiano greco italiano sì perché Vassili è greco il nome cioè mio padre è greco quindi ha un'origine mista mia madre è italiana quindi mi hanno dato due nomi Vassili Gianmaria e me li porto e te li porti anche bene ascolta ci diamo appuntamento magari per altre per altre cose più avanti volentieri perché è un piacere sentire mi piace dar spazio ai giovani che hanno tutte queste cose belle hanno tutte queste novità e portano veramente una boccata d'aria fresca alla nostra provincia quindi io vi ringrazio veramente a nome di tutti ti auguro tante cose belle grazie grazie mille a te a Bellunesi nel mondo a tutti voi per questa occasione avete ascoltato dentro la notizia a cura di Manuela Gaio grazie mille a te a Bellunesi nel mondo a tutti voi per la notizia a cura di Manuela Gaio